Buon Ascanio Day Benvenuti in Kiwi Ciao a tutti ragazzi di Shakari Benvenuti e bentornati ragazzi Benvenuti, benvenuti in questo nuovissimo video Questo perché? Perché oggi è Buon Ascanio Day ragazzi Oggi è l'Ascanio Day Se ancora non sai cos'è l'Ascanio Day Te lo spiego subito Diciamo, Ascanio Day è una canzone vecchissima Tipo la iraniana Così che tradotta ad assonanza italiana Fa uscire fuori una canzone di Ascanio Che deve entrare l'8 gennaio Però vabbè, non sono in grado Te lo spiego, anzi te lo farò vedere tra poco Perché andremo a reaccionare ai vari Ascanio Day Che trovo così sull'internet Quindi andremo a vedere tutto l'Ascanio Day Perché oggi è Ascanio Day Quindi buon Ascanio Day a tutti Ma ovviamente non prima che come al solito Già lo sapete Vi siete iscritti al canale, attivate la campanella Mettete like Comentare e fa tutto il corso che dovete fare Sempre, daglie, daglie, daglie Buon Ascanio Day a tutti Andiamo a vedere tutti gli Ascanio Day Gli Ascanio Day che trovo sull'internet Allora, ho scritto Ascanio Day E vediamo cosa esce Vediamo più che altro se la trovo in terra la canzone La voglio trovare intera più chiaro Perché è difficile trovarla intera Forse questa è intera No No raga, la voglio trovare intera Voglio vedere intera Vorse questa è intera Vorse questa è intera Vorse questa è intera Non raga, non raga, non raga Grazie a tutti 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 Grazie a tutti